Oggi prepariamo una buonissima pasta con fagiolini e tonno. Gli ingredienti sono questi, fagiolini, pasta, tonno, feta, passata di pomodoro e olive nere. Iniziamo eliminando le estremità dei fagiolini e l'eventuale filo. Al bollore saliamo l'acqua. Ho lavato tutti i fagiolini e li facciamo cuocere per qualche minuto. Gli scoliamo e li raffreddiamo sotto l'acqua fredda. Prepariamo il condimento. Iniziamo con l'olio, due spicchi di aglio schiacciato, la passata di pomodoro, foglie di basilico, il sale, miscoliamo un po', il tonno, e un cucchiaio di olive. A piacere aggiungete del peperoncino. Alla fine uniamo i fagiolini. posiamo la pasta. Saliamo l'acqua che bolle e buttiamo la pasta. andiamo a buttare la pasta e condiamo tutto. A questo punto spengo il fuoco e unisco la feta. andiamo a buttare la pasta. Oggi preparerò un piatto delizioso, pasta alle melanzane e tonno. iniziamo a tagliare la melanzana e la facciamo a tocchetti. togliamo le estremità. iniziamo a mettere l'olio nella pasta. iniziamo a mettere l'olio nella pasta. iniziamo a mettere l'olio nella padella. due spicchi di aglio schiacciati. uniamo le melanzane a tocchetti. aggiustiamo di sale. copriamo e facciamo cuocere qualche minuto. fatto cuocere le melanzane girandole spesso coperte per circa 10 minuti. aggiungo il tonno sott'olio. taglio qualche pomodorino o datterino a metà e lo unisco. qualche foglia di basilico spezzettato. faccio tostare in una padellina antiaderente un po' di pinoli. uniamo i pinoli tostati al nostro condimento. saliamo l'acqua per la pasta. la pasta è cotta e la mettiamo nel condimento. amalgamiamo tutta per bene e aggiungiamo un pochino di acqua della pasta. metto un altro po' di basilico spezzettato. metto un po' di basilico spezzettato. un po' di basilico spezzettato. metto un po' di basilico spezzettato. metto un po' di basilico spezzettato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.